Il 13 ottobre qui a Ceccano c'è una tappa del concorso Canoro Piccole Stelle Cantano che è organizzato dall'Associazione Omonima, un'associazione di Latina che ha già collaborato con il Comitato Provinciale di Latina per l'Unicef e ha deciso di organizzare delle serate anche in provincia di Frosinone. Come Comitato Provinciale di Frosinone dell'Unicef siamo vicini a questa manifestazione che ha fra le sue finalità anche quello di sostenere alcuni progetti dell'Unicef. Il più importante fra quelli che hanno sposato è il progetto Vogliamo Zero. In questa occasione si inserisce anche nella campagna Unicef nazionale un'orchidea per i bambini che è tendente alla raccolta di fondi per il finanziamento dei progetti Unicef a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza nel mondo.